La questione catalana, ritorniamo nella nostra puntata di questa sera di Viceversa. Facciamo un approfondimento di carattere sia divulgativo che politico sulla vicenda che sta interessando e interesserà ovviamente per forza di cose il paese iberico almeno fino al prossimo primo di ottobre, ma poi ci saranno anche degli altri sviluppi sulla vicenda. Perché? Perché ce ne occupiamo oggi. Perché oggi è una data particolare, perché il giorno dopo è la festa, le celebrazioni della Diada, che è una ricorrenza storica per quello che riguarda il paese catalano e perché oggi c'è stata anche un'importante presa di posizione da parte del Tribunale Costituzionale, che è l'epigono della nostra Corte Costituzionale, Tribunale Costituzionale ovviamente spagnolo di Madrid, con sede nella capitale castigliana. Qui con noi per parlare di questi aspetti, il nostro esperto di questioni internazionali, il professor Guilhermo Cevolin. Buonasera, professore. Buonasera. Abbiamo fatto una piccola premessa, siamo nel giorno, nel day after, nel Diada Espoes, anzi, no? Della Diada. Ricordiamo cosa si celebra? È un po' particolare, un po' stile friulano, si celebra una sconfitta. Si celebra una sconfitta, cioè una sconfitta eroica, cioè una resistenza eroica della Catalogna. Però questa della festa della Diada, che è molto sentita, è che ieri è stata interpretata anche in termini politici, tant'è vero che c'è stata una diatriba sui numeri. Il Paese dice mezzo milione, quindi scontentissimi, altri giornali dicono un milione, anzi le forze dell'ordine, così un po' più ottimistico. Si, avevo letto numeri un po' da manifestazione sindacale in Italia, no? Qualcuno diceva 350.000, qualcuno 600. Comunque c'era un sacco di gente, abbiamo anche un po' di immagini video che avevo selezionato, se la regia ce le manda così vediamo davvero il centro, insomma, una delle tanti diagonal di Barcellona, insomma, coperte dalla gente. Quindi sicuramente più di mille persone sono. No, no, sono sicuramente 500.000, ma normalmente nelle manifestazioni indipendentiste per l'autonomia, che si fanno sempre in questi primi di settembre in Catalogna, hanno partecipato anche un milione e mezzo, anche due milioni forse di persone in altri anni. Quest'anno, ecco, si dice un po' che c'è stato qualche persona in meno, ecco, però comunque era notevole la partecipazione. E vedete, sono i partiti, qui il problema della questione catalana è che sono i partiti... Tutti con maglietta gialla, professore, si sa dire, perché come mai questa scelta cromatica? La maglietta gialla, più che la maglietta gialla dovrebbe essere la maglietta... Giallo-rossa. Giallo-rossa per i colori della Catalogna, ma addirittura in anem in blau, en blau, cioè per la contrapposizione, come la Spagna ha come simbolo il toro, mentre la Catalogna l'asino, così, per esempio per quanto riguarda il Correo, la posta, la posta in Spagna è gialla, ma i catalani la vorrebbero dipingere di blu. Quindi ecco, c'è una... Diciamo che si affida sempre anche a queste... A questi colori, sempre. A questi tratti di connotazione, insomma, no? Eh sì, ci sono queste contrapposizioni che sono anche un po' sempre fatte in questo modo molto particolare, anche un po' ironico, così quasi disfottò un po' dei catalani, ecco, che però hanno preso molto seriamente questa questione del referendum perché hanno detto siamo preparati, hanno fatto le cose in una maniera molto particolare, nel senso che hanno tenuto nascosto... Facciamo un piccolo inquadramento dal punto di vista giuridico, perché noi tante volte quando si parla di referendum facciamo confusione anche dalle nostre parti, fra consultivo, abrogativo, eccetera. Allora, vediamo un po' che tipo di referendum è, perché noi sentiamo si farà un referendum, però possono fare e se lo fanno che cosa succede? Allora, è un referendum che non è previsto esattamente dall'ordinamento, quello, e quindi è un referendum che anzi sarebbe vietato dall'ordinamento perché la comunità autonoma non può fare un referendum sulla propria indipendenza. Diciamo che non rientra fra le competenze. Questo è già stato stabilito dal Tribunale Costituzionale in occasione di un precedente quesito e in più si è avuto la dimostrazione matematica adesso che giovedì scorso la Generalitat, il Parlamento Catalano, ha approvato la legge di, prima ha approvato una risoluzione per addivenire a referendum e poi ha approvato la legge per indire il referendum. Questa legge subito è stata dichiarata incostituzionale, è stata sospesa dal Tribunale Costituzionale e qui iniziano un po' i problemi. Perché? Perché il Tribunale Costituzionale ci ha messo quattro anni per decidere sullo Statuto Speciale di Autonomia della Comunità. Era stato innovato. Che era stato innovato nel 2006 con l'approvazione anche del Parlamento Spagnolo. Certo. Oltre che con il voto popolare. E mi credo che ci fosse il governo Zapatero. Oltre che con il voto popolare della Catalogna anche, con un voto popolare anche. Quindi voto popolare e Parlamento Spagnolo. Sì, quindi bicamerale come funziona per noi. Sì, come per noi. Con doppia approvazione da parte delle due camere. Quindi il Parlamento avrebbe approvato. E la Corte, il Tribunale Costituzionale in 300 punti ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale. Dopo quattro anni però. Ecco, è strano che ci abbia messo quattro anni per fare questa sentenza e poi invece riesca a reagire il Tribunale Costituzionale in poche ore. Termini brevissimi, con grande serenità. Nel momento in cui deve decidere sulla legittimità costituzionale di questa legge della Catalogna. Ecco, vediamo se la regia ce la passa. Perché proprio è una notizia di oggi che si attendeva. Abbiamo un link con l'Avanguarda che è il quotidiano storico. Sì, il quotidiano. Corriere della Sera di Barcellona. È il quotidiano storico che tecnicamente è governativo. Cioè sta sempre dalla parte della Generalità. Mentre recentemente c'è stato un strano cambiamento dell'altro quotidiano catalano di Barcellona, sempre che si può leggere sia in castigliano che in catalano, che è il periodico. Perché ha cambiato un po' il tiro. Ha cambiato, sì. Intanto leggiamo il titolo proprio, dopo così ci concentriamo sull'analisi. Il Tribunale Costituzionale sospende la lei di transitorietà approvata da parte del Parlamento. Perché i catalani hanno fatto bene le cose. Hanno fatto prima una delibera generale della Generalità che avvia il procedimento di referendario. Poi hanno approvato la legge sul referendum e subito hanno anche approvato dei decreti attuativi che in pratica prevedono di prendere atto dell'eventuale voto favorevole e stabiliscono la disconnessione con la Spagna. In pratica tutte queste cose erano tutte pronte sotto il cassetto e sono state pubblicate nel sito della Generalità in un attimo appena sono state approvate. Mentre non è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale, nel bollettino ufficiale della Catalogna, la sentenza del Tribunale Costituzionale che sospende la legge che istituisce il referendum. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che iniziano già delle situazioni di disobbedienza per certi versi da parte degli organi istituzionali. Cioè se fossimo particolarmente fiscali potremmo identificarle in parole povere come una specie di ammottinamento istituzionale o no? Eh sì, è un termine, cioè è una disobbedienza istituzionale alla quale hanno dichiarato di vocarsi i membri del governo catalano, il presidente Pungemont e tutti gli altri membri del governo catalano hanno sottoscritto questo impegno e sono pronti a portarlo a tutti gli atti estremi, quindi anche a una disobbedienza che potrebbe portare anche alla loro incarcerazione. Ecco, le reazioni dal punto di vista giuridico previste nella Costituzione spagnola... C'è questo articolo 155 che è abbastanza coercitivo. Prima dell'articolo 155 c'è un'altra possibilità, la Costituzione spagnola prevede diversi stati d'eccezione e c'è vero e proprio stato di emergenza, stato di pericolo e così via per la Costituzione e c'è la previsione, quindi la possibilità per la Costituzione di instaurare un regime, secondo le regole previste dalla Costituzione, di eccezione. Quindi con la sospensione dei diritti costituzionali, oltre a questa possibilità che è stata indicata dai costituzionalisti anche catalani, anche dell'università autonoma, perché anche loro studiano la Costituzione e devono dire quello che dice la Costituzione. Poi i partiti costituzionali per la maggior parte saranno ancora in vita, immagino, no? Perché la Costituzione spagnola... Sono del 78, del 78, sì, diciamo che comunque i catedratici spagnoli sono parecchi, perché c'è stata con la nuova Costituzione anche tante cattedre di diritto costituzionale, però ecco, l'interpretazione è tutto sommato, dal punto di vista giuridico dei costituzionalisti, è piuttosto favorevole al governo spagnolo, come diceva lei, c'è l'articolo 155 poi della Costituzione spagnola. Sì, raccontiamo cosa dice. Spagnola dice questo, che il governo con la maggioranza dei due terzi, con la maggioranza assoluta, anzi, del Senato, può approvare le misure necessarie quando una, e queste misure necessarie cosa vuol dire? È una clausola commissaria, cioè il contenuto può essere il più vario, non è previsto. Le misure necessarie quando la comunità autonoma o compia un atto di disobbedienza o mette in pericolo la stabilità della Spagna. In questo caso prendendo la larga o neanche tanto la larga ci potremmo rientrare, no? Possono essere integrati tutti e due i casi perché può essere sia un atto di disobbedienza sia anche un atto che mette in pericolo la sussistenza stessa della Spagna, perché la Spagna senza la Catalogna non sarebbe più la Spagna... Beh, per forza sappiamo benissimo che anche quando fu nostro ospite il professor Aureli Argemi portato da lei, tra l'altro insistiamo molto sulla questione economica. Sappiamo che Paes Vasco e Catalogna sono il motore industriale, assicurativo, tutti i grandi gruppi bancari, la Caixa, sappiamo che hanno sede in questo caso in Catalogna, insomma ho il BBVA nei Paesi Baschi, quindi sappiamo che hanno una forza economica pazzesca, no? Tutte le attività produttive sono concentrate in queste due comunità autonome e la richiesta però della Catalogna è quella di raggiungere l'autonomia del Paese Basco che è maggiore. Così anche per quanto riguarda anche un altro tema che è quello della pulizia autonomica, cioè i Mossos de Squadras per avere maggiori competenze che sono più avanzate nel Paese Basco che addirittura possono svolgere anche delle funzioni per certi versi nel Paese Basco anche quasi di carattere confinario per certi versi, cosa che per esempio non possono fare i Mossos de Squadra. Lei mi cita i Mossos de Squadra, sappiamo benissimo che sono entrati come tanti altri componenti all'interno di una serie di polemiche da una parte e dall'altra nel momento degli attentati a Barcellona sulle Ramblas. La situazione è stata strumentalizzata sia da parte autonomista che da parte centralista. Direi che da parte autonomista non è stata, secondo me, io su questo devo dire che le posizioni dei Catalani sono corrette. Perché? Perché cosa si è detto? Che la CIA avrebbe informato il Mossos de Squadras. Allora già questo è... Fa un po' ridere. Sì, fa un po' ridere perché i Mossos de Squadras sono comunque una polizia autonomica che ha delle competenze di ordine pubblico, sono bravissimi per esempio nei confronti... Casomai informi i servizi segreti statali, non c'è una polizia autonomica, no? Eh sì, ma poi c'è stata anche una cosa ridicola perché hanno pubblicato il documento e il documento era evidentemente contraffatto perché conteneva degli errori d'inglese ridicoli. Quindi scritti da uno spagnolo, posso dire. Sì, è probabile, è probabile. Hanno molta familiarità con l'inglese, no? Ridicoli da quell'altro. Però ecco, il colpo che si voleva dare era... Ecco, vedete l'autonomia catalana crea dei danni, no? Sì, sì, sì. E invece gli attentati del 17 di agosto hanno dimostrato l'esatto contrario. Primo che i Mossos de Squadras hanno funzionato benissimo, nel senso che sono intervenuti in maniera efficace dappertutto. Casomai è stata la sindaco, la sindachessa di Barcellona che non ha voluto mettere delle barriere nella Rambla, eccetera, eccetera. Anche se lì, io conoscendo benissimo la situazione, ma la conosciamo un po' tutti, anche se avessero messo all'entrata della Rambla degli ostacoli, comunque... Sarebbero stati aggirabili. Con gli accessi laterali, forse avrebbero fatto ancora maggior danno, perché facendo l'accesso laterale avrebbero fatto strage nei vicoli stretti per accedere alla Rambla, più nella Rambla. Quindi, ecco, da quel lato lì... Si si è discluso fino a se stesso. Però ecco, è stato un atto di volontà per certi versi, quindi... Ecco, e poi un'altra cosa che ha funzionato benissimo, che ha stupito, è gli ospedali. Agli ospedali hanno avuto tantissimi feriti, ma feriti gravi, e c'è stato, mi pare, rispetto ai caduti colpiti dal gesto, dal car jihad, c'è stato, mi pare, solo un morto tra tutti i feriti. Quindi, cioè, sono stati curati benissimo. E sappiamo che la sanità è di competenza autonomica. E c'è la competenza autonomica, hanno dimostrato una grande capacità agli ospedali di Barcellona, tutti gli ospedali di Barcellona, a tutti i livelli di curare benissimo. Per reagire a questo tipo di emergenza. Professore, passiamo dagli aspetti, diciamo, giuridico-formali, a quelli un po' più, non dico, di territorio, no? Vissuti sul posto, no? Ultimamente, io sono stato a Madrid e lei è stato nello stesso periodo a Barcellona. A Barcellona. A Madrid io ho indagato un po', non c'era molta voglia di parlare di questa cosa. Ogni volta che si andava in discorso con qualcuno, o c'erano, insomma, degli improperi, o si cercava di svicolare il discorso. A Barcellona invece com'era la situazione? Io sono anche sempre in contatto con il Fogolar Furlan di Barcellona, che adesso è un po' congelato, ma è sempre attivo con il nostro amico Marco Bozzer, che è anche giornalista, che è quello che ha fatto la voce Barcellona nella enciclopedia Treccani, per esempio, e che è un giornalista anche non gastronomico per il territorio e così. E abbiamo parlato di serate che sono state fatte, anche lui ha girato un po' per la Spagna in questi giorni, in vacanza, e trasmetteva anche questo aspetto, cioè che ci sono anche degli spagnoli che pregavano i catalani di non andarsene, e quindi un atteggiamento di questo tipo, come un altro atteggiamento di questo tipo particolare è quello di tensione in questo periodo in Catalogna. Normalmente i catalani vivono queste cose sempre in maniera un pochino distaccata, quasi ironica, anche sfottò in maniera quasi umoristica in alcuni casi. Un po' più all'italiana come spirito. E invece c'era un po' di... Anche perché effettivamente Mass è stato condannato a sei mesi per gli atti che ha fatto nel primo tentativo di referendum. E adesso Pungemont si è dichiarato, cioè il presidente della Generalità, si è dichiarato pronto a fare tutto quello che serve, lui ha detto che non si ricandiderà, ma che vuole portare a termine questo diritto di decidere dei catalani. Questo diritto di decidere si ispira al diritto internazionale sostanzialmente, all'autodeterminazione dei popoli, a precedenti referendum che sono stati fatti in Canada, per esempio, o che sono stati fatti... La questione del Quebec, mi dice. Sì, o che però sono andati a volte anche, si perdono anche questi referendum. Infatti c'è anche la possibilità che il referendum sia perso, per certi versi. Perché... Si dà molto per scontato che nel caso di votazione ci sia un grandissimo favor. Ma allora, intanto, un aspetto tecnico è che non c'è un quorum, non è stato previsto dalla legge sul referendum catalana un quorum, e poi, diciamo, si ritiene che per la corrispondenza che c'è tra il corpo elettorale e il Parlamento, i deputati, dovrebbe esserci anche, per certi versi, una corrispondenza anche nel voto referendario. Certo, Madrid fa di tutto, come abbiamo visto nel caso che abbiamo riferito dei Mossos de Squadras, e come abbiamo visto con il Tribunale Costituzionale, fa di tutto per impedire... Lo sviluppo della questione. ...la vittoria. Ma, ecco, qui il tema sarà questo. Parola chiara di Rajoy, no? In questi termini. Ha detto... Primo Ministro spagnolo. Non possiamo e non vogliamo parlare del referendum. Questo è il grande... Il grande... E dell'indipendenza della Catalogna. Questo è il grande problema. Cioè la mancanza assoluta di una possibilità di dialogo politico. Perché? Perché questa è una dimensione politica. In altri paesi, facciamo un esempio in Europa, paesi dell'est, la Slovacchia, la Ceco-Slovacchia, si sono divisi consensualmente, con un atto politico decidendo il 31 di gennaio, nel passaggio da un anno all'altro, il 31 di dicembre al primo di gennaio, dividendosi debiti, risorse, territorio, capitali, tutto si sono divisi. Ecco, ovviamente questo è molto difficile in Spagna, però anche la posizione di Madrid è insostenibile. Cioè un no. L'esasperazione è stata la frustrazione per l'autonomia dello statuto del 2006, la sentenza della Corte Costituzionale, del Tribunale Costituzionale del 2010 e dopodiché il tentativo di richiedere ancora situazioni di autonomia, avanzamento di autonomia è sempre rifiuto da parte di Madrid, neanche di fare una tavola di discussione. Come andrà a finire, professore? Adesso uno si interroga, dice cosa succederà? Abbiamo parlato anche con Aurelio Ergemi che, come ci siamo detti prima, cercheremo di portare qui il 23-24 di ottobre a... Quindi post referendum. Post referendum, ma subito dopo il referendum del Veneto sull'autonomia prevista dalla Costituzione, nell'articolo 116 della Costituzione italiana. Quindi ecco, Ergemi ha detto, ha fatto questa previsione, secondo lui il referendum il 1 ottobre non si svolgerà. Per certi versi ne abbiamo oggi una conferma con la Fiscalia, che è in pratica la Procura, che ha già ordinato ai Mossos de Squadras di sequestrare le urne, anche se ho l'impressione che le urne sono tenute segrete, cioè se viene tutto nascosto lì. Un altro problema lì è la disponibilità dei sindaci, perché i sindaci sono minacciati di avere ripercussioni penali se si presteranno al... A mettere a disposizione delle strutture... E' stata molto ambigua l'alcaldessa di Barcellona, che ha paura di venire coinvolta, di fare un atto illegale. E quindi c'è una delle difficoltà, è anche il fatto di poterle celebrare ufficialmente, sotto che profilo? Cioè nelle sedi istituzionali, cioè nelle scuole, nei luoghi normalmente deputati... Vengono scambiati, insomma, per una questione non legale. Certo, ne ho parlato stamattina col presidente Fontanini di questa cosa, dove anche lui era preoccupato per questo aspetto, ho detto però io, conoscendo per esempio a Barcellona la proprietà della Generalitat, penso a Palaurobert, penso al Museo della Cultura Catalana sul Port Vell, cioè sono tutti edifici di musei di proprietà della Generalitat, oltre la sede in piazza San Giaume. E quindi ci sono delle sedi... Ci sono posti dove... Allestire i comizi elettorali, ma non è neanche quello il problema. Ci sono tanti posti dove si potrebbe fare... Forse la questione si pone più per i piccoli centri, laddove però c'è una componente autonomista ancora più forte. Quindi è molto più probabile che i sindaci... Forse i sindaci non temono nemmeno di prendersi l'onere di questa cosa. E i sindaci, sì, c'è poco da fare, comunque rischiano... Immagino nella provincia di Ieida, per esempio, che tutti i sindaci non abbiano nessun problema, insomma, ad allestire i comizi. D'altronde lì c'è stato già un referendum consultivo che è stato vinto a mani basse, comune per comune, perché anche lì, come è capitato per sempre queste questioni un po' istituzionali catalane, appena è stato ammesso il referendum consultivo in un comune, non nella Catalogna, nella regione, nella comunità autonoma, era vietato dal Tribunale Costituzionale, ma poi è stato ammesso in un singolo comune. Allora l'hanno fatto simultaneamente in tutti i comuni, in tutti i comuni, e lì c'è stato un grande risultato, sempre a favore del sì, ecco. Sì, sì, dell'autonomia, del distacco, chiamiamolo così, no? Comunque, il referendum... Io partecipo alla sciarcia, alla rete dei diritti collettivi dei popoli in Europa, che è un'istituzione fondata soprattutto dai catalani e da tutte le altre realtà, diciamo, di popoli senza Stato in Europa, ma anche di altre realtà non europee, come i canadesi, oppure del Quebec, oppure anche gli Amazic, così via, i Berberi, e così via. Ma, ecco, questa realtà già il Parlamento europeo ha un po' studiato questo tema, e nello studiare questo tema già si diceva, attenzione, che i referendum si possono perdere. Pensiamo al referendum scozzese... Certo, certo, di esempi ce ne sono. Si possono perdere. Di vedere come andrà, professore. Intanto abbiamo cercato di capire quali sono i presupposti, poi ovviamente dopo ottobre, dopo i primi di ottobre, sapremo meglio come analizzare la situazione. Prima di ottobre ci sono altri appuntamenti, perché lei nei prossimi giorni è impegnato a Pordenone Legge. Sì, a Pordenone Legge. Ci vuol dire che cosa succederà? Giovedì sera, giovedì 14, presentiamo il numero della rivista alle 21, nel ex convento San Francesco a Pordenone, presentiamo il numero di Limes dedicato al Messico, e qui ne abbiamo parlato di cose simili al Messico, cioè nel Venezuela, per esempio. e poi l'indomani alle 9.30, invece venerdì 15 di settembre, faremo il punto sull'Italia e la geopolitica e quindi con queste due riflessioni sulla geopolitica all'interno della manifestazione Pordenone Legge, il gruppo Studi Storici Historia e il Limes Club Pordenone-Udine-Venezia confermano questo ruolo così centrale, importantissimo, della nostra regione per quanto riguarda la geopolitica. Ci vantiamo di essere primi in Italia con questo Limes Club Pordenone-Udine-Venezia. Dominiamola serenissima in questo caso con il nostro triunio. Sotto il segno di Aquileia, sotto il segno di Aquileia. Grazie professore, appuntamento a Pordenone, allora per chi è appassionato di geopolitica, appuntamento dopo il primo di ottobre, dopo il referendum, se si farà o non si farà, qui ne discuteremo sicuramente. Intanto saluti e alla prossima, professor Cevolino. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, con Viceversa. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.